È stato un mercoledì di paura per un camionista palermitano di 50 anni. Il tir guidato dall'uomo carico di arance si è ribaltato lungo la statale 115 all'altezza del centro commerciale Le Rondini a Porta Empedocle dopo aver urtato una Chevrolet che era stata lasciata parcheggiata sul ciglio della strada. L'episodio si è verificato mercoledì sera nella statale solitamente molto trafficata che unisce Agrigento con Sciacca. Il camionista un cinquantenne palermitano è rimasto ferito e intrappolato all'interno della cabina guida. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento intervenuti tempestivamente a soccorrerlo e tirarlo fuori. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Fortunatamente è stato dichiarato non in pericolo di vita. L'uomo era alla guida del tir, di proprietà di una ditta di trasporti di Palermo che trasportava le arance di Ribera ed era diretto a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Sono stati i militari della Guardia di Finanza di passaggio a chiamare subito i soccorsi. I vigili del fuoco con l'autogru hanno rimesso su strada il tir. L'intervento sarebbe durato circa cinque ore. Grazie a tutti.